Ben trovati l'ATG della mobilità sulla ferrovia regionale Roma Civita Castellana Viterbo sino all'8 agosto lavori di rinnovo nella stazione di acqua acetosa. La circolazione ferroviaria sulla linea è sospesa tra le stazioni di Saxarubra e Flaminio. Nel tratto interrotto è attivo un servizio bus sostitutivo in centro cantiere a piazza Venezia per i lavori di riqualificazione dei San Pietrimi nell'area di Capolinea chiuso in via temporanea. Le linee sono trasferite in via degli Astalli e su piazza Venezia sul lato adiacente piazza San Marco. Infine domani dalle 16 alle 19.30 a piazza del Popolo manifestazione contro il Green Pass. È tutto per questa edizione del Tg della mobilità.